Tu sei appena tornato dal Cairo, quale atmosfera si vive in questa città? A parte anche un'atmosfera abbastanza regolare, di una vita normale. È chiaro che girando per Piazza Tahrir, che era stata appunto la piazza principale della rivoluzione, nelle ore e nelle vie circostanti c'erano molte manifestazioni. C'è l'incognita, l'incognita è sapere se chi ha fatto la rivoluzione avrà voglia, sarà in grado di portarla avanti per protestare contro questo governo di stampo teocratico, di stampo islamista, o se, come alcuni dicono, in realtà la maggioranza del paese, non quella cittadina, c'è da fare una bella differenza fra quanto avviene al Cairo, nelle città più importanti, e quanto può avvenire fuori, perché l'Egitto sono circa 80 milioni di persone, il Cairo sono ventina di milioni di persone, e chi ha fatto la rivoluzione sono soprattutto la parte, diciamo, più istruita della popolazione che vive nelle città, che ha fatto l'università, questi giovani che hanno fatto l'università. Altre persone più, sono missionari anche italiani o stranieri, che vedono le cose più dall'esterno, hanno molto più dubbio su questo, cioè pensano che in realtà la maggioranza della popolazione, quella che, soprattutto delle campagne, non ha intenzione di portare avanti questa rivoluzione, vuole tranquillità, non ha dei grossi problemi a farsi governare dai fratelli musulmani, e quindi sono molto più scettici. La preoccupazione dei missionari è soprattutto che questi avvenimenti si inseriscano in un processo di islamizzazione del Nord Africa e anche dell'Africa orientale, e quindi si sanno a diverse generazioni di periodi bui, come dicono loro.